ciao a tutti da vittorio onestamente non avrei mai pensato di dover fare un video del genere ma mi sa che dobbiamo farlo su instagram e facebook c'è una pagina si chiama laziale ponderato poi su facebook ha un altro nome laziale capitolino una cosa del genere perché ne parlo perché è scoppiata un po la polemica allora io capisco il naziale si sente accerchiato no diciamo che la stampa non rispetta la lazio gli ho fatto tanti esempi della gazzetta dello sport che attacca la lazio del messaggero che inventa rumors per vendere quel giocatore eccetera eccetera il tifoso laziale si sente accerchiato perché purtroppo è così no la lazio non ha la stampa mica eccetera e questa è un po diventata un po una sindrome per cui molti tifosi da lazio sono un po sospettosi no attaccano altri tifosi da lazio perché criticano lo tito perché criticano un giocatore eccetera io posso capirli però non dobbiamo poi cadere nel ridicolo faccio un esempio libro di pupia vati dove dice laziale di merda eccetera è un libro è un personaggio io non ci trovo niente di sbagliato assolutamente e che vuol dire che adesso in poi non si può mai più scrivere un libro dove magari si dice romanista eccetera no è un libro e ci deve stare eccetera ecco torniamo a laziale ponderato che su instagram fa dei video dei disegni eccetera sulla lazio alcuni mi fanno ridere molto altri non mi fanno ridere eccetera molti laziali hanno iniziato a criticare questa pagina dicendo che non sono laziali che fanno il male della lazio eccetera io ripeto alcune cose che fanno mi fanno ridere altre non le capisco altre non mi piacciono ma adesso da dire che sono antilaziali fanno il male della lazio ragazzi calmiamoci un po di satira un po prendersi in giro fa benissimo non possiamo essere seri non possiamo ogni volta puntare il dito eccetera bisogna anche apprezzare una battuta bisogna anche riderci sopra ridere sui nostri difetti e questo quello che fanno su questa pagina ripeto alcune alcune sono molto divertenti altre magari potevano essere migliori ma capita cioè anche alcuni miei video fanno potevano essere migliori altri video mi vengono meglio ecco ripeto non prendiamoci troppo sul serio perché solo i cretini si prendono troppo sul serio fanno delle battute sulla lazio ebbè e quindi non possiamo criticare alla lazio non possiamo fare battute sulla lazio prendiamoci in giro mi prendo in giro io mi prendete in giro voi non non si può prendere in giro che ne so patrick eccetera poi sono la io non li conosco partiamo da questo non li conosco sono laziali mi hanno detto per cui non veramente non credo non ci sta nulla di male e fare una polemica su questo è veramente futile e stupido ripeto già il mondo è complicato se non se ci prendiamo troppo sul serio a vita diventa un incubo un po di battute un po di scherzi se non capite siete veramente no dobbiamo riderci sopra ogni tanto dobbiamo prenderci in giro non ci possiamo prendere così seriamente per cui veramente voi che fate la polemica su laziali ponderato eccetera smettetela perché state cadendo sul ridicolo questo fatto che adesso ci sono alcuni laziali che danno della patente delle patenti di lazialità agli altri uno ma chi vi ha letto a giudice della lazialità voi gli siede per essere così laziali e da poter decidere tu sei laziale tu non sei laziale uno due nella vita bisogna sorridere un po e non si può solo prendere in giro l'altro bisogna anche sorridere dei propri difetti dei propri errori no siamo degli esseri umani sbagliamo ridiamo come io prendo in giro te tu puoi prendere in giro me e io mi posso autoprendere in giro perché altrimenti la vita è un incubo ripeto questa polemica su laziali ponderata è una cosa che non riesco a capire non vi piacciono non vi fanno ridere peccato che vi posso dire non li seguite ma fare polemica non siete la lazio siete anti laziali siete il male della lazio ragazzi siamo veramente ridicoli veramente ridicoli ripeto alcune cose vi fanno ridere altre non vi fanno ridere amen ridono anche i calciatori stessi perché non sono così stupidi no alcune cose sono divertenti altre sono anche veri purtroppo no non sempre la satira o comunque il la battuta deve far ridere a volte deve far riflettere sui nostri errori sui difetti della lazio sui difetti nostri eccetera secondo me la pagina laziale ponderato fa questo niente di più se non lo capite peggio per voi ma veramente fare una polemica su questo mi sembra assolutamente folle assolutamente folle la lazio accerchiata sì ma il nemico non è laziale ponderato se dobbiamo vedere un nemico il nemico è la gazzetta dello sport eccetera veramente non non attacchiamoci fra laziali perché facciamo il gioco loro no quello fa una battuta ci sta non la capisci amen ma veramente dare patente della lazialità attaccare la laziale ponderata attaccare quello che fa una battuta sulla lazio stiamo veramente finendo malissimo ripeto sono laziali lo fanno per divertirsi per far ridere per far sorridere anche per far riflettere in alcuni casi se non capite ragazzi fatevi un esame di coscienza perché probabilmente vi state prendendo troppo sul serio ciao alla prossima grazie a tutti grazie a tutti